E allora, referendum 20-21 settembre, la scelta sì o no per quello che è un appuntamento che si avvicina sostanzialmente, domenica e lunedì saremo chiamati alle urne, per alcune regioni ci sono anche le elezioni amministrative, ma il referendum costituzionale di cui probabilmente non si parla abbastanza, noi abbiamo cercato di farlo nel corso delle nostre dirette, è il seguente, taglio ai parlamentari, sì o no, un taglio sicuramente non imponente, ma che comunque evidentemente dal punto di vista del Movimento 5 Stelle che ha proposto la legge e anche degli alleati, anche se il PD è diviso, la Lega anch'essa è divisa e si parla di Lega perché comunque la legge era stata promossa quando il governo era ancora quello giallo-verde, in realtà si parla di un referendum o quantomeno di un'idea che parte con la nascita del Movimento 5 Stelle ma che era stato comunque già proposto come taglio dei parlamentari anche per il referendum proposto da Matteo Renzi e prima ancora da Silvio Berlusconi. Insomma, la storia è lunga e che ci conduce fin qua con una differenza, stavolta si voterà solamente sì o no al taglio dei parlamentari e non a tutta una serie di ulteriori cambiamenti che erano previste nel referendum proposto da Matteo Renzi e da Silvio Berlusconi e poi comunque si parla, se ne parla già dagli anni 80 di un taglio dei parlamentari, dai 945 a quota 600, quindi 400 alla Camera e 200 al Senato. Ne parliamo con Paolo Balduzzi, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e membro importante della Voce.info che è un po' una sorta di watchdog dell'economia e della finanza italiana e non soltanto, un cane da guardia per tradurlo all'italiana. Paolo, ti vedo in collegamento, buon pomeriggio e grazie per la disponibilità. Buon pomeriggio a voi. E allora, la domanda è, anzi le domande sono, sì che cosa cambierà, no che cosa cambierà o per entrambi che cosa non cambierà dal tuo punto di vista? Paolo peraltro, lo ricordo, è anche editorialista del Messaggero. E allora, qual è la tua opinione su questi eventuali cambiamenti che ci aspettano? Ma dal punto di vista istituzionale è più facile partire con il no, se vince no, naturalmente, per definizione, non cambia nulla. Se vince sì, invece, c'è questo cambiamento, c'è questa novità, per cui dopo tante proposte, alcune rimaste solo sulla carta, altre invece formalizzate, come per esempio il referendum costituzionale del governo Berlusconi nel 2006, se mi ricordo bene, o anche nel 2016, c'è effettivamente la possibilità di tagliare il numero dei parlamentari. Questa proposta, rispetto alle precedenti, è una risposta molto più semplice, il quesito appunto è semplice perché riguarda solo gli articoli che riguardano il numero dei parlamentari. Alla Camera e al Senato un taglio di identica proporzione, il 37 circa per cento. I benefici che il sostenitore del referendum della riforma portano a favore del voto favorevole si riducono sostanzialmente a un risparmio di tipo economico. È abbastanza curioso il fatto che nessuno sia in grado davvero di quantificare questo risparmio economico. Diciamo che la cifra che è andata per la maggiore, soprattutto qualche anno fa, quando se ne è cominciato a parlare, è dell'ordine dei 100 milioni di euro annui, che naturalmente non è una grande cifra, se si considerano le cifre della spesa pubblica, circa 800 miliardi di euro l'anno di spesa pubblica. Sì, peraltro Paolo, scusami se ti interrompo, ma poi nelle ultime settimane quei 100 milioni sono diventati 80, poi sono diventati 50, questo conferma che effettivamente una cifra diciamo così ufficiale, concordata da tutti quanti, universale, non è mai stata quantomeno trovata. No, e questo appunto è molto curioso perché se uno dice taglio i parlamentari per risparmiare e quindi dimmi almeno quanto pensi di risparmiare. Tuttavia, se uno confronta questa cifra, diciamo 50, 100 milioni di euro, con programmi più specifici, per esempio la spesa che ogni anno finanzia gli asili nido è circa un miliardo di euro l'anno, vedete che 100 milioni o 50 milioni comunque diventano una percentuale non irrilevante e in questo periodo qua, per esempio, se questi soldi fossero tutti destinati all'ampliamento dell'offerta degli asili nido non sarebbe un guadagno da poco. Poi ci sono tutta una valutazione, anche qua poco quantificata, ma molto di principio. L'argomento principale a favore del no mi pare che sia quello della diminuzione della rappresentatività dei parlamentari. È un argomento che riconosco, come dire, molto evocativo dal punto di vista del principio. Meno parlamentari in qualche modo significano più persone che vengono rappresentate dallo stesso parlamentare, quindi un controllo magari più difficile. D'altro canto, essendo di meno, è anche più facile sapere chi è responsabile di cosa. Io ho scritto un articolo in cui però mi chiedevo proprio questo. Allora, provate a sostenere anche questa affermazione che diminuirebbe la democrazia se diminuissero gli eletti. In Calabria ci sono 2 milioni di abitanti e 30 consiglieri regionali. Paolo, è andata via la voce. Dove ci sono 2 milioni di abitanti? Scusami, in Calabria ci sono 2 milioni di abitanti e 30 consiglieri regionali. In Lombardia ci sono 10 milioni di abitanti, quindi 5 volte tanto, ma solo, tra virgolette, 80 consiglieri regionali. Ora, c'è qualcuno che può sostenere che il livello di democrazia nelle due regioni sia differente o che sia migliore il livello di democrazia in Lombardia oppure che sia migliore in Calabria. Mi sembra che sia una questione certamente evocativa, quella della democrazia, ma operativamente non abbia alcun tipo di contatto con la realtà. Io faccio delle valutazioni politiche a questo punto, non tecniche. Su questo argomento, Paolo, perdonami, l'evoluzione del ragionamento che hai fatto, cioè meno democrazia, secondo alcuni dicono ecco, questo è una mossa, diciamo così, e qui forse mi ricollego anche a quello che stai per dire tu, cioè ragionamenti più politici da parte del Movimento 5 Stelle per poi arrivare a uno dei loro cavalli di battaglia quando ancora non era un partito, quando ancora era un movimento, quando c'era ancora Grillo che mandava un po' quel paese, tutti quanti, e cioè azzerare il Parlamento. Perché si sente dire anche questo, insomma, si comincia così e poi si arriva all'azzeramento del Parlamento e invece abbiamo bisogno di essere rappresentati, di avere un organo che insomma sia garanzia della democrazia, eccetera, eccetera. La tua opinione su questa situazione, su questa riflessione, su questa evoluzione anche un po' estrema a cui potrebbe condurre questo referendum, qual è? No, è decisamente estrema, in fin dei conti non stiamo riducendo l'organo a un solo rappresentante, ce ne sono ancora 400 e c'è la possibilità di rappresentanza per tutti o perlomeno tutti quelli che supereranno le soglia di sbarramento esplicite e implicite nella competizione elettorale, se uno volesse eliminare il Parlamento dovrebbe a sua volta fare una riforma costituzionale e il Parlamento stesso si opporrebbe. Tra l'altro è curioso, è quasi paradossale questa cosa, per cui chi vota no lo fa per difendere a parole il Parlamento, ma votando no che cosa stai dicendo, stai dicendo che sei contrario a una decisione che il Parlamento a larga maggioranza ha preso, quindi di fatto lo stai sfiduciando e dici che invece lo vuoi difendere. Lo ricordavi bene tu, la maggioranza che ha approvato questa riforma non è stata una larghissima maggioranza, perché altrimenti non ci sarebbe stato neanche bisogno del referendum non confermativo, ma è stata una maggioranza variabile, perché prima Movimento 5 Stelle con la Lega, poi Movimento 5 Stelle con Partito Democratico hanno votato sì in momenti diversi alla riforma, quindi gran parte dell'arco parlamentare almeno una volta è stato a favore di questa riforma e votare no vuol dire sfiduciare ancora una volta dopo 3, 2006, 2016 e 2020, il lavoro riformatore del referendum. È qui la considerazione politica che volevo fare. Io penso che la Costituzione possa essere riformata, non debba essere riformata per forza, ma ci sono ampli margini di miglioramento all'interno della nostra Costituzione, che cambia molto più velocemente di quanto le persone pensano e credono, perché cambia anche senza necessità a volte del referendum confermativo. Io penso che dire no per la terza volta a una riforma, una riforma davvero in cui non posso vedere svantaggi evidenti, significa mettere una pietra tombale sulla possibilità che un Parlamento in futuro, che qualche leader politico in futuro si giochi la carriera ancora sul referendum costituzionale. L'ha fatto Renzi pochi anni fa e se vincesse ancora o no probabilmente sarà difficile trovare qualcuno che vorrà riformare la Costituzione, che secondo me presenta margini di miglioramento, cosa che dicono tutti, il bicameralismo perfetto da superare, eccetera. Questa riforma non va in quella direzione lì, è evidente, però non va neanche nella direzione di portarci alla dittatura. Questa qua è veramente un'esagerazione che non fa neanche onore ai sostenitori delle ragioni del no. Interessante anche in effetti il ragionamento che hai appena fatto, cioè di quanto possa essere un impatto emotivo forte nel momento in cui dovesse passare di nuovo il no, perché sarebbe la terza volta in cui passa il no era il 2006, giustamente come hai detto tu per quanto riguarda il referendum Berlusconi e quindi il 2016, insomma il terzo no negli ultimi 14 anni in qualche modo e questo potrebbe essere effettivamente una barriera che diventerebbe quasi insormontabile per chi volesse nuovamente proporre un referendum per un miglioramento diciamo così della Costituzione. Secondo molti è una proposta da bocciare, diciamo così, perché il Movimento 5 Stelle lo propone come, così, referendum punitivo nei confronti di una casta, di una rappresentanza, quella politica che se andiamo a vedere i miglioramenti che ci sono stati all'interno del nostro Paese sulle riforme in generale, gli investimenti in tecnologia e in investimenti nel verde, insomma sono tante le classifiche che vengono redatte su chi ha più debito pubblico, chi investe meglio, chi cresce di più, il PIL, il deficit PIL, insomma l'Italia spesso la vediamo agli ultimi posti e quindi sostanzialmente allora il Movimento 5 Stelle si era mosso dicendo noi in questo modo riduciamo il numero dei parlamentari così fanno meno danni e intanto risparmiamo dei soldi per quanto pochi che possiamo anche dirottare, tu hai parlato degli asili, in effetti adesso la scuola è sulla bocca di tutti perché la scuola ha ripreso e molto, credo, dipenderà a livello proprio mentale, insomma, e di fiducia dalla buona riuscita della ripresa scolastica oppure no. Tornando a noi, insomma, quel tipo di indirizzo che il Movimento 5 Stelle aveva dato al referendum è ancora, diciamo così, attuale, valido? Insomma, sei d'accordo che in qualche modo la politica debba essere punita e che questo può essere un modo giusto per farlo? No, non mi piace questo ragionamento perché io penso che invece debba passare soprattutto partire dalle istituzioni il messaggio che la politica è una cosa bella, che chi si occupa della politica faccia un servizio al Paese. Qui la questione, e quindi insomma non mi sembra neanche un bel argomento a favore del sì questo, ogni tanto bisogna pensare che i peggiori sponsor del sì e del no siano esattamente i sostenitori del sì e del no, perché portano delle argomentazioni esagerate e veramente poco convincenti. Direi di metterla sul tecnico, non so se si è capito, io tendenzialmente sono favorevole a questo referendum. Al di là di come andrà non penso che ci siano ripercussioni nel punto di vista istituzionale, nel punto di vista politico immediato, cioè per essere esplicito non credo che ci saranno nuove elezioni a breve anche se vincesse il no. Però dovrebbe passare il messaggio che appunto la politica è una cosa bella, chi si occupa di politica fa un servizio al Paese, semplicemente in questo modo abbiamo delle istituzioni un po' più snelle che costano di meno, che possono comunque continuare a lavorare come lavoravano prima. Non vedo svantaggi da questa riforma, vedo un solo vantaggio, è poco, da una riforma costituzionale forse ci aspetteremmo molto di più, però il bilancio pende a favore secondo me del sì. Non tanto delle ragioni del sì, perché come abbiamo visto anche questa a volte sono molto originali, ma degli effetti semplicemente del sì. E mi pare di capire che il vantaggio unico che hai individuato è quello del seppur minimo risparmio, corretto? Sì, 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 ma è triste come analisi, come dicevo facciamo una riforma costituzionale e cerchiamo di portare a casa un miglioramento generale della qualità delle istituzioni. Ma magari può servire come base per avviarne poi altre, si associa a questa riforma anche un possibile sviluppo di una nuova, ennesima legge elettorale e fare in modo che effettivamente poi la burocrazia che c'è all'interno del Parlamento, delle decisioni e quindi il bicameralismo può essere questa scelta una base per poi rendere veramente più virtuoso i procedimenti all'interno del Parlamento oppure non lo è. È una minima parte ma che ha bisogno anche di molto altro prima di parlare effettivamente di modifica della Costituzione che sia tale che sia effettivamente migliore rispetto a come era prima. Allora, secondo me, guarda, a dire il vero, ho letto interventi sia dei sostenitori del no, sia dei sostenitori del sì, dicendo votate no così poi facciamo una riforma migliore, votate sì così poi facciamo una riforma migliore. Tutte e due sostegno questa versione. Io non credo tanto alla versione del no, cioè votare no, ho cercato di argomentarlo prima, secondo me significa per altri, non lo so, 5-10 anni non parlare più di riforma costituzionale. Sono abbastanza scettico anche che questo abbia un effetto che il sì abbia uno stimolo ad ulteriori riforme. Queste servono, sono anche in cantiere. Per esempio, si è parlato spesso anche della diminuzione delle soglie di età per votare e per essere eletti, quindi l'elettorato attivo e passivo. Sono riforme di rango costituzionale, se ne sta parlando in questi mesi, forse anche questi ottengono uno stimolo dalla vittoria del sì, questo è possibile. Di riforma elettorale non lo so, sì, se ne può parlare, però anche chi dice che il problema della selezione e della qualità dei parlamentari è da affrontare in termini di riforma elettorale, non di riforma delle istituzioni, si dimentica della storia recente del nostro paese. Noi siamo uno dei pochissimi paesi che in 10 anni ha cambiato, non mi ricordo più neanche quante volte, la legge elettorale e ogni volta non siamo soddisfatti dall'esito della legge elettorale. Io, come dicevo, penso che la Costituzione abbia bisogno di un aggiustamento, comincia a avere la sua età, due camere che fanno le stesse cose effettivamente sembrano troppe. È giusto che possano votare ed essere eletti tutti i cittadini maggiorenni, dal mio punto di vista, non solo quelle per esempio che hanno più di 25 o più di 40 anni. Questi procedimenti però richiedono un lavoro di lungo periodo e non credo che anche il voto positivo in questo momento porti a pensare a questo. Ne riparleremo tra qualche anno. Con più ottimismo se vince il sì, perché vuol dire che in fin dei conti della popolazione ogni tanto conferma le proposte del Parlamento, oppure non ne parleremo più per diverso tempo, se vince il no. Ricordiamo che l'Italia è il secondo paese in Europa per numero di parlamentari. Regno Unito primo, che peraltro non è più in Europa, però ce lo mettiamo lo stesso, 1430, seconda Italia 945, poi Francia 925, Germania 778, Spagna 616, Polonia 616. 560 e poi tutti gli altri. Ricordiamo che i parlamentari italiani, ma non lo diciamo perché siamo per il sì o per il no, questi sono fatti. Gli italiani sono i parlamentari più ricchi d'Europa, hanno uno stipendio e l'indennità più alto d'Europa e proprio su questo fronte è per chiudere, Paolo, giusto 30 secondi. Prima dicevamo che bisogna convincere, occorre convincere gli italiani che chi fa politica lo fa per il bene del paese ed è una cosa bella. Certo è che qualche volta è difficile crederci, basti ricordare l'ultimo episodio spiacevole che riguarda alcuni dei nostri rappresentanti del Parlamento che hanno chiesto il bonus che in realtà era previsto, era stato pensato per gli aventi partita IVA e che non avevano fatturato nei mesi del lockdown. La legge consentiva loro di chiedere il bonus e alcuni di loro l'hanno chiesto e l'hanno pure ottenuto. Mi leggo a delle ragioni dei sostenitori del NOMA per contestarle ancora una volta, dicevano che si potevano ottenere gli stessi risparmi non tagliando di un terzo il numero dei parlamentari ma tagliando di un terzo lo stipendio dei parlamentari, che contabilmente è vero, però io pensare che qualcuno lavori meglio dopo che gli tagli lo stipendio di un terzo ci credo poco. Che sia un politico che sia un panettiere in effetti. Eh sì, come fai a convincere qualcuno che deve lavorare meglio e gli tagli lo stipendio di un terzo. Va bene, la democrazia, la politica hanno dei costi, non incidono tantissimo sul complesso della spesa pubblica italiana, ricordiamocelo. Grazie a Paolo Balduzzi, la Voce.info e docente dell'Università Cattolica di Milano. Paolo, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, a presto. Noi ci fermiamo allora, fermiamo la diretta ma che riprenderà, riprenderà tra due ore 19.30 con Alexandra Giorgeva, come noi la Donghi, con i nostri ospiti per raccontarvi la Fed, per raccontarvi anche i mercati che proseguono, soprattutto ovviamente Wall Street in questo caso. e allora rimanete con noi, l'appuntamento è tra poco, io vi lascio al resto della programmazione delle fonti TV. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.